Sono tanti pellegrini che nel corso di tutto l'anno vengono qua, cosa cercano? Ma cercano di poter credere a quello che hanno ricevuto nella loro infanzia, cioè quando nasce un bambino i genitori cosa gli dicono? Che deve essere felice. Il bambino impara a crescere credendo che la giustizia, la verità, l'amore sono cose reali. Poi nella vita vengono smentite queste attese, molto spesso, in modo crudele, in modo drammatico a volte. Allora ritrovare i propri ideali è quello che conferma e fa capire che la mia vita non è sprecata. È una conferma di quella verità che l'uomo porta dentro di sé. Ecco, tanti fedeli che sono arrivati anche per Pasqua. Qual è il messaggio che vorrebbe passasse per questa Pasqua? Ma il messaggio è sempre la speranza, perché per dei credenti la Pasqua è il grande segno della speranza. La croce è Gesù che prende su di sé tutto il peccato del mondo, ma non ne resta schiacciato perché c'è la risurrezione. Ora, le speranze, se sono fondate solo sulle capacità degli uomini, diventano sempre disillusione, frustrazione e quindi acidità di vita. La speranza fondata su Gesù Cristo è quella solida, perché lui veramente ha vinto la morte e veramente, dandoci lo Spirito Santo, ci fa diventare figli di Dio. La gente oggi ha bisogno di speranza più che di qualunque altra cosa. La vera tentazione è la disperazione.